E' terminato l'incontro, 1 a 0 al nostro favore, siamo andati in finale, domani c'è la finale, la finale della categoria giovanissimi. Ecco i nostri ragazzi, calma ragazzi, Gianluca, salutatevi fra di voi, su, che vuoi? Oh calma ragazzi, calma ragazzi, calma 5, no che fai? Fammi capire, fammi capire, fammi capire, fammi capire, fammi capire, fammi capire, fammi capire a chi vuoi tagliare la gola, no che è successo? Ciao, mi stai, lascia qua. Ciao. Tu sarai anche bisogno di un ministro. Un ragazzino, hai detto bene? Sì. Vedi qua, vedi qua. Vedi qua, vedi qua. Vedi qua, vedi qua. Vedi qua, vedi qua. Stai dalla gola, quella lì. No, vedi qua. Ok, ci pensiamo. Calma. Calma, calma. Vieni qua. Calma. Sì, 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 vedi qua, mi prendi la malattia. Sì, sì, fatto sì. Calma, calma, è su, è, a posto. Voglio la finale. Eeeh, ecco i nostri ragazzi che festeggiano. Chiara, 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 chi dice? Ecco che si deve. Virtus Castelfrentano, Virtus. Chiara, chiara, chiara. Ok. Calma ragazzi, vi combattate. No, 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 no. Che cosa? Perché cosa? No, 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 no. Eeeh, no, 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 no. No, no, ferma, ferma. questa è una scorrettezza questa è una scorrettezza